buongiorno a tutti ragazzi penultimo capitolo di Uncharted e cos'è che è un galeone? ah qualcosa di... ma era bello grande, dunque ragazzi sono sudato come un coso, ah mi ero dimenticato del piccone, sono sudato come un coso, non lo so, pure il mio sudore sta sudando, che cavolo sono appena tornato da scuola e gli autobus qua ovviamente sono, hanno due posti messi in croce e stiamo tutti in piedi a un cimitero delle novi e siamo tutti in piedi incollati l'uno all'altro e io sono uscito che sono un stonfo come un, non lo so, sono tutto incollato, volevo farmi una doccia ma prima viene il canale dopo, dopo viene tutto il resto, quindi, quindi lo faccio per voi questo mettete un like, condividete e divertitevi con la serie, che non so, che finirà presto, non so, mi dico, dalla regia mi dicono che è il penultimo capitolo che cavolo aspetta quel cazzo non me ne frega un cazzo ma io devo aspettare ma si, spiderman figli di puttana, venite a prendermi non vi lascerò vincere così facile, eh, ho vinto c'è vinto, scusate ho perso, non ho vinto ok, dobbiamo dobbiamo raggiungere la spiaggia oh, io non so cosa minchia fare cecchino o terra ah, il cecchino è a terra o noi dobbiamo stare a terra, perché c'è un cecchino oh, non sto capendo, un cazzo, non sto capendo già sono rintronato così non ci beccheranno mai aspettate morto morto con calma si fa tutto beh, con calma non ci fa un cazzo io ho sbagliato un po' non fate niente con calma aspetta, aspettate che sono in crisi sono in piena crisi, cavolo ma vaffanculo aspettavi sei ferocio bene adesso adesso un cazzo ma si potente andiamo un po' e basta con queste perfetto oh, gli attacchi in coppia fanno sempre effetto morto c'hai che? c'hai l'AIDS? non si può mirare questo coso mare non c'hai più nessuno andiamo avanti ai proiettili così oh posso aspettare eh morto dov'è che si sparano? ah da là oh oh o ecco era corazzato quello credo che erano i corazzati erano dei eccolo due non ci sarebbe visto funziona credo che tre no 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 vaffa vogliamo vogliamo per fortuna infatti tutto il resto non è vero ai mori mori morto adesso munizioni o cazzo sto sparando alla cazzo di cane 109 variati di benissimo si sono piuttosto lento con questo affare falla parà ecco a sentire lasciare no no lasciare lasciare è troppo pesante questo è il 14 fall non aspetta la fanni per sé più perché come dire e poi 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 non ce n'era un'altra che aveva anche la fall ecco questi qua sono tutti anche forte come arma aspettate ho visto non ho visto niente vabbè mi sa che c'era un tesoro ma non credo cioè già pensi sia un capitolo lungo non vorrei prolungarlo più di tanto oh andiamo pesanti qua eh ok ok ti prego muori sì ma che cazzo sono ovunque e porca troia ok ma lo stesso con la cernata ecco l'ho trovato perso più fortuna ea e crepa oh se ne è voluto di tempo quello l'ho trovato quello l'acqua sotto fatto andato e che sta fermo porti ora ok 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 niente sbaglio c'era uno che mi era pesante fatto no no la pistola raffica aveva fatto eh due colpi morto ok questo può sembrare questo può sembrare più necessario di quanto sembri pistola raffica sì perché cosa scusate ok ok finito più o meno più o meno ho detto che me ne costa di sbaglio questo è un calo di frame ce ne è voluto di tempo ok credo che magari ancora molto perché c'è già c'è già all'inizio ci sono spari e spari cazzo la roba no e come ho fatto aspetta aspetta arrivo arrivo fatto qua dietro eh ma non fregami il posto ma porca troia e siamo già due porca puttana non usare lanciagranate non serve aiutino grazie l'uno è ancora vivo due due meno aspetta cecchilati tu sì quel fucile è forte ma non mi dire ma sì dai prendiamolo l lg china lake come definirlo non serve a pochi munizio ah è lui ok come scappiamo con lui no ho sentito ho sentito ci sono trovati morto aspetta aspetta dobbiamo dobbiamo aspettare che ecco spero io non prendere il fucile non serve tanto è infatti si ma sto qua è ravvicinato non è è da tanto ravvicinato è troppo vieni qua ok devo ricredermi è piuttosto forte oh finalmente il mitraglione un po' quello la cazzotto che spostatevi che non posso dire lo stesso come ah grazie grazie per la scala ora simon non va ho detto simon non va possiamo andarsene dimmi dov'è mi sa che l'ho trovato no l'avevo cecchinato porca puttana l'ho trovato areo ti ho preso in testa infatti mi prender quelli da di lato a noi perché sennò ci fottono e ci stanno già fottendo come è vero che minaccia avamera oh me lo aspetta proprio in cu e qua bene bene quello là proprio non era un riparo ah ha trovato senza sì ma anche piuttosto anche tanto era in culo questa cosa grazie e ora mi serve un'altra arma perché anzi no possiamo farlo meno ma sì dai questo se non ti ammazzo con questo non ti ammazza neanche l'apocalisse aspetta 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 no preso non l'ho ucciso vai vieni qua adesso sì che è morto arx 160 me la connero finiti e andiamo sulla tre 9 faccio io cosa aia no 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 però com'è che siamo saltati in aria oh non ho avuto neanche il tempo rpg sei fuori che cosa vuoi fare con questo dov'è fammi individuare dov'è 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 eccolo qua stavano rpg contrattaccato contrattaccato noi no invece sì ma porca puttana e mi diranno una granata mi sparano in culo e poi poi è che uno degli ultimi capitoli ma bambino a bambino almeno l'ha preso proprio qualche dubbio non possiamo attraversare un cazzo preso dov'è che mi spara ha trovato puttanella dai venite fuori venite fuori paura eh paura adesso oh oh non dovevo provocarlo andiamo deciditi ok ok possiamo andare andiamo fuoco qua è una mossa suicida tutti morti per fortuna i nostri amici sono tornati quali quindi quello che volevo fare mi sa che l'ho usato male comunque uno è morto preso male e si va bene ma pulgatling povero pulgatling ciccione povero ehi ehi stronzo bastardo seguitemi eh ma ho finito le munizioni dove dove ehi grazie grazie per grazie per sostenermi eh è che sto morendo potrei potrei avere un po' di supporto morale anche ahi quanti rpg amiche oh merda si si ok ok un cannone davanti potremmo smetterla si sono lasciati un po' prendere la mano con gli esplosivi eh su 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 non mi frega niente neanche se c'è la legione indera ecco dove sono finito mi sa che si era baldata la barca una nave cioè barca è una cosa nave no ah ma ah ma non sapevo se stessi affondando cazzo dove andiamo adesso oh cazzo mi sa che moriamo stiamo andando sempre più a fondo ragazzi o io non so dove cazzo andare qua aspetta eh scusate c'è tutto chiuso dove vado oh riveliamo no no e come vado? che cazzo faccio? ah luce 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 fatto e dove vado ora? ma io non so al percorso a memoria come i produttori eh ok mi sa che luce luce finalmente luce oh no ok sembra qualcosa almeno siamo fuori inutile no morto il miglior amico dell'uomo sta pistola visto? vado potrei avere potrei cambiare ah grazie la ce n'è uno sospetto uff non è più sospetto e ho sparato proiettili a cazzo lo sappiamo già mai sposarsi così ok 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 wow 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 che cosa cavolo è quella ah mercenario aveva un RPG ma cazzo ma cazzo cosa? no boh sta roba ti fa incazzare però dai crepa dimmi perchè non dovrei uccidervi tutti perchè non posso? ok 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 siamo presi male presi male dall'altra parte come non ho no ok no ok non ho capito un cazzo vado dove sto qua? ma vaffanculo non ho ne tempo neanche di riposare fatto RPG oh oh finalmente era l'ora che gli sorgessimo ok non serve più perchè tanto 101 benissimo qua è RPG di nuovo ma non serve più di tanto c'è contraccambio così ma no 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 qua ah no avevo l'ARP zicca cercatela no perchè io non lo trovo c'è andavo a prendere l'ARP c'è un attimo che era davanti a me poca troia lo ammazzavo così pensa 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 che corri corri piuttosto eh merda ha la torre già eh però ci va la torre la spacca bene male scusa guarda non ti sto inserendo no 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 che cazzo e ancora e fortuna ci mancava solo fortuna che era una schumacher fortuna ok la soluzione del gioco andate sempre contro la telecamera fermarmi avevo capito devo fermarmi finito beh occhio si ok figlio di puttana ora adesso dai dai ne vuoi un altro ne vuoi un altro se lo ho qua eh suonava meglio nella mia testa bel lavoro ragazzo beh grazie per l'aiuto si si sarebbe ora e quanti capitoli è che non lo vedo sale scusa non va il po aspetta bene aspetta aspettarlo eh ok uno e due asam del vecchio due asam come sembra come stai spero non ci fosse lui oh finalmente sei tornato possiamo andarcene ora sei quello? oh mi hanno sfiorato la stanza sfiorato sfiorato sai quanti ne ho presi? sai quanti proiettili ho preso? sono un uomo proiettile ora aspetta non ho capito cosa ha detto già prima usciamo da qua e là ci sarà l'esercito ci sarà l'esercito americano russo giapponese cinese Corea del sud Corea del nord e e si avanza si avanza l'esercito nazista e quello comunista resuscitati va bene? il rassunto ciao infatti c'è no infatti e adesso tu sei qua per giocare a te stesso? ci vado quel cazzo del tesoro no 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 eh guarda ok Edelry ha affondato ogni singola nave di quest'isola e lo sai per chi? perché era di posto a tutti i punti di tenersi il tesoro esatto anche se a criticare un'aveva vicino per evitare che qualcuno potesse seguirli perché voleva andarsene guarda fammi pensare io credo che dovremmo andare avanti a cercare il tesoro perché vi conto ce ne torniamo casa poi te ne stai col rimpianto che non hai mai trovato il tesoro no sensato ma sai dove è affondata? tipo tutta la vita tipo tutta la vita dunque possiamo tornarcene a casa? appunto c'è col tesoro che ce ne facciamo guarda che sono penne di soldi ma ma è di qua sempre se c'è ancora un aereo se no siamo costretti a rubare la nave di Avery e risuscitarla dal dal profondo del mare e insieme al Kraken eccetera eccetera quello che verrà insomma ora scommetto che ora comincia l'ultimo capitolo scommettiamo aspettate 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 ok non comincia il nuovo capitolo ok io conoscevo che c'era in facci che abbiamo il tesoro che abbiamo da cercare il tesoro no no io ho un'erede qua ah giusto cerchiamo a soccarci che in tutti i modi di convincerci di cercare il tesoro però cerchiamo cerchiamo carretto ci ho pensato subito che strano c'è qualcosa che non quadra quanto può pesare un carretto? tanto dai una mano? in due si va prima ok un po' più veloce e ce l'abbiamo fatta no no fatto carretto bene bene ora possiamo andare a prendere perchè non sei riuscito a salire? bene ora possiamo andare a prendere sto maledito aereo andiamo per me ci sono dei macchinari anche qua può darsi eh questo gioco è imprevedibile io direi io direi di scalare qua ecco qua via d'uscita ora l'aereo dovrebbe essere più vicino eccola ci siamo andati su vediamo vediamo per me funziona anzi forse no e non c'è una leva o qualcosa di simile ok ok uno due ai che cavolo stai facendo andiamo avanti così cosa allora cosa cavolo stiamo facendo e raggiungiamo come scusa? ma che cavolo stai facendo? che cavolo stai facendo? oh allora? vengo a ondolarci? vengo a ondolarci? vengo a ondolarci? mi sa di sì ma io lo stavo portando avanti così dov'è? dove è? dove è? mi sa tanto che è una leva o qualcosa di simile e dove la buttiamo questa scusa? ecco qua avanti e dunque voi lo tenete fermi ecco qua ora infatti quel che volevo fare il tiro dall'altro lato oh io lo sto tirando eh qua fatto devo andarlo su eh ma dai ma come fai a morire? se io non si credo non lo so non si credo come il cazzo si fa si si ok arrivo aspetta ora arrivo mercenario con l'rpg ah no peggio ok ok e la funi via è andata ok salta ecco scommettiamo che ora va a prendere tesoro no no toglitelo dalla testa capito? mi dispiace avverti coinvolto tutti voi si ma cazzo no eh e porca puttana capito? vabbè o se crepa cazzi suoi mi dispiace Sam Sam no si vaffanculo eh già lo sapeva dobbiamo andare e basta ora comincia un nuovo capitolo ora 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 no non comincia niente già troviamolo intanto saremo costruiti a spendere il tesoro perchè perchè tanto ha un testone e non torna indietro senza il tesoro sembra se esiste ancora ma dobbiamo andare dove? no no e che cazzo? e dove? non capisco niente di sta roba questo qua no cos'è ma quello serve qua? prendi tempo e basta ah il carretto già mi serve aiuto però tutte e due? allora ecco vedi che siamo più veloci così mi manca poco in salita però eh che stronzo come lo segna un fermo ah c'è anche fermo a mano porca troia però di nuovo dai oh ti stanno offrendo un'occasione eeeh è rotto scommettiamo quella faccenda solo di questo qua si esatto tu avvicina il più possibile l'aereo alla montagna e preparati a un decollo rapido è l'unico che so hm è l'unico che so non è giusto che cosa? per i piatti faremo tutto e non attaccarti con tutta ah fai con i due tirali su quel rampino se l'hai non ci avete mai pensato? cioè hai il rampino li tieni su così e ora comincia un nuovo capitolo ma l'ho indovinato datemi datemi un like c'è qualcuno che rompe ah giusto mi ero dimenticato di dire che e basta con MrL però eh devo andare da MrL per un video comunque ragazzi ci vediamo al prossimo e buongiorno a tutti grazie a tutti grazie a tutti le saluto a tutti Grazie a tutti.